La signora Viola Paltrinieri di Bologna ha raggiunto la davvero ragguardevole età di 101 anno, ma come potete constatare ne dimostra al massimo una novantina. Questo brillante risultato è attribuibile, almeno secondo il saldissimo convincimento della Vegliarda, ad un razionale sistema di ginnastica al quale essa si mantiene fedele sin da quando aveva appena 75 anni. Ne è a dire che le figurazioni ginniche siano complicate e tanto meno gravose. È sufficiente ruotare l'una mano sull'altra, quindi inchinare aggraziatamente in avanti il capo e così via. Davvero non avremmo creduto che il segreto della longevità fosse così semplice. Con questo metodo giungerò ai 200, ha dichiarato l'Arzilla Vecchietta.